Ormai siamo lì e ci proviamo, nonostante la giovane età cerchiamo di regalare gioia a quella che è la società che ha fatto tanti sacrifici, che crede in questo progetto già da tre anni e quindi proviamo a lottare fino all'ultima giornata. E ora il Martina fa davvero sul serio, molto sul serio. Vittoria ad Andria grazie ad una perla su calcio piazzato di Ganfornina, aggancio al Nardò in seconda posizione, balzo a meno tre dalla capolista Tim Altamura. La Serie C non è più un sogno, è diventato un obiettivo. Ormai mancano 12 partite, bisogna anche essere onesti, è chiaro, siamo lì e noi vogliamo, abbiamo provato a fare un percorso dalla prima giornata di campionato, abbiamo cercato di dare continuità alle prestazioni, ai risultati, questo è avvenuto, abbiamo perso solo tre partite, per una a zero peraltro anche in modo inmeritato, però siamo una squadra, abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta, una squadra che ha atteggiamento. Nessuno ha mai vinto così tanto in trasferta come il Martina, nessuno ha fatto più punti della squadra della Valle d'Itria con la valigia da viaggio. Biancazzurri che stanno costruendo le proprie fortune anche grazie alla straordinaria capacità di pescare dalle categorie inferiori, pur non avendo un direttore sportivo, ci pensano. Allenatore e presidente. C'è questa collaborazione stretta tra me e la Carbonara, è chiaro che la Carbonara è molto attento alle categorie anche inferiori, a questi ragazzi che fanno dei campionati. Palermo l'anno scorso era nell'eccellenza sarda, ma già mi aveva accennato la Carbonara l'anno scorso di questo ragazzo che poi è il figlio Ridouan, non è altro che il figlio di Martin Palermo, sicuramente più famoso di lui. E ha fatto 26 gol mi sembra in questa eccellenza, ha girato dei video anche in basso a quelle che sono le idee di gioco mie e personali, quindi c'è grande collaborazione tra me e la Carbonara. Gan Fornina stava a Lugento l'anno scorso, anche molto osservato, anche lì abbiamo visto diversi video. Riposo domenica, poi la ripresa prevista per il 18 febbraio quando sarà Martina contro Palmese al Turzi. Arriverà la squadra più in forma del momento, quella che nel 2024 ha collezionato più punti di tutte.